Che corini! E che bei dentini! Bambini? A lavarsi i denti? Eh? Con quei cosi! Giurassiche! Come quelli che usavamo noi! Le bambine! Porca! Che squali! Meno male che per i bambini di oggi è arrivata l'igiene profonda di Silvercare, l'unico spazzolino con la testa ricoperta di vero argento. A contatto con l'acqua l'argento sprigiona ioni attivi che abbattono naturalmente la carica batterica, che resta sui normali spazzolini. Nuovi Silvercare Baby Junior e Team. Le specie più evolute usano Silvercare e altri... Ma!